La Lega perde Nico Presti, già sindaco di Arcade per due mandati, e aggiunge un nuovo caso che fa discutere a livello politico dopo le frizioni con Fratelli d'Italia per la nomina di Marco della Pietra a capo dell'Associazione dei Comuni e la fuoriuscita di Giancarlo D'Atos dal gruppo consigliare del Carroccio ai 300. Che ci sia fermento è evidente, ma il commissario provinciale Gianangelo Boff invita a valutare le singole vicende. Presti spiega che aveva rinunciato già lo scorso anno alla militanza. All'epoca ci eravamo confrontati con Nico, è stata una sua scelta personale, percorso fatto negli anni, probabilmente non l'ha portato a quelle soddisfazioni che lui si sarebbe aspettato e a un certo punto ha fatto una scelta. Anche per Boff non è automatico che il sindaco di Arcade Fabio Gazzabin metta Presti fuori dalla giunta. È ovvio che non può essere il solo e unico motivo e poi dipende anche dagli accordi che vengono fatti nel momento in cui si fanno le liste, si fanno le candidature, perché è ovvio che se vengono stretti degli accordi che magari oggi a me non sono conosciuti e poi questi accordi vengono disattesi, è ovvio che viene meno un po' la fiducia. Se D'Atos prosegue e ha cambiato casacca per i dissidi col capogruppo Riccardo Barbisan, c'è anche un elemento caratteriale da tenere in considerazione. Non vorrei che la politica venisse troppo personalizzata, perché non è che entro o esco dalla Lega per una persona che mi sta simpatica o una che mi sta antipatica. Nessun problema della base verso il capitano Matteo Salvini, secondo il commissario, che per le amministrative di giugno ribadisce di volere un centrodestra unito al voto. I rapporti con Giuseppe Montuori sono rapporti dialoganti, come lo sono anche con gli esponenti degli altri partiti, tra segretari si parla, si ragiona. È ovvio che magari ci sono dei momenti in cui si alzano anche i toni e ci si confronta in maniera più accesa, ma questa è la politica, se no è normale che sia così.